Ci commenti la partita? No, ciao. No, beh, questa è sempre contro i Monsicchiari, è una partita molto difficile. Abbiamo dimostrato un grande orgoglio, un grande grinta e secondo me è questa grinta che ha fatto la vittoria per Roma oggi. Senti, ce lo puoi fare un bilancio della stagione già? Siamo arrivati già a un buon punto. Il bilancio è bravissimo, bellissimo perché siamo in secondo posto e adesso all'inizio dell'anno secondo me nessuno aveva pensato che siamo in questo posto. Allora per il momento il bilancio è molto positivo, però secondo me c'è ancora di bella cosa a arrivare per i pre-off e dobbiamo continuare a lavorare così perché lavorare veramente bene insieme. Siamo una bella squadra e spero che ancora di vittoria per il pubblico, per tutti.